Sarà un torneo riservato alla categoria Esor di NTB, quindi giocheranno 9 contro 9. Saranno delle mini partite da 10 minuti per tempo. Durerà dalle 9 e mezzo la mattina fino alle 4 e mezzo la sera. La formula sarà quella di 12 squadre divise in 3 gironi, in 4 gironi da 3 squadre. Le prime classificate faranno poi semifinale per partecipare a finale dal primo al quarto posto, le seconde semifinali per partecipare dal quinto all'ottavo posto e le terze per partecipare dal nono al dodicesimo. Quindi ogni squadra farà 4 partite. Quest'anno ci siamo sull'input dei nostri direttori, sia Riccioli che Gemmi. Abbiamo voluto tentare questo allargamento a 6 squadre, proprio per dare un input forte a tutto il movimento giovanile a retino. Proprio perché, anche se siamo in difficoltà con le strutture, però comunque con buona volontà e con tanta collaborazione da parte sia del Comune che della UISP, stiamo cercando di portare avanti questo progetto. Era la prima volta nella storia forse che l'Arezzo si avventurava nelle 6 squadre. Adesso per ora il bilancio è estremamente positivo.